per il 2020 k lancia una nuova gamma di prodotti nella quale non ci siamo mai avventurati fino adesso quindi ci spostiamo un po più verso il fuoristrada in questo caso stiamo guardando al kv 45 che è un casco da trial nasce quindi come un casco molto leggero molto areato comodissimo al quale abbiamo aggiunto però un particolare ovvero la visiera parasole che scende è nascosta dentro la calotta scende e lo trasforma in un casco molto versatile che possiamo quindi utilizzare anche in città con uno scooter eccetera le colorazioni sono molto aggressive molto giovani il casco è leggero e comodo abbiamo qui quindi vedete tre colorazioni molto aggressive il codice è kv 45 gemini